Noi abbiamo presentato un'interrogazione e abbiamo fatto un accesso agli atti perché abbiamo fatto la scorsa settimana una commissione di garanzie e controllo con Aset dove ci hanno assicurato che non c'era nulla di questo progetto di digestore anaerobico così come lo chiamano loro e che non era ubicato da nessuna parte, avrebbero utilizzato la massima trasparenza e il massimo coinvolgimento dei cittadini. Evidentemente tutto ciò non è vero perché riscontriamo che si vuole fare un progetto a falcinetto non di una piccola centrale anaerobica come era stata ipotizzata già in passato di circa 2 ettari ma una mega centrale da 150.000 m2 che riceverà 50.000 tonnellate all'anno dei rifiuti, quindi una grossa centrale, un grosso impatto ambientale, il tutto nell'assoluto non trasparenza e nell'assoluto non coinvolgimento dei cittadini di questi territori, Bellocchi, Falcinetto ma anche Lucrezia perché sono poi lì vicini. Quindi assolutamente non solo non va bene ma è sbagliatissimo, intanto non ho capito perché dovremmo andarsi a prendere i rifiuti di tutte le regioni Marche e della Romagna perché si vuole fare un progetto con Marche Multiservizio, questa è una domanda di quella che vogliamo fare perché visto che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento con società tipo ERA che hanno comunque dei soci privati, abbiamo anche provato una mozione in consiglio comunale della Carla Luzzi in questo senso, allora perché si fa tutte queste cose in sotterfugio senza coinvolgere nessuno? Sono le domande che andremo a fare ma vogliamo veramente risposta altrimenti io credo che questa volta i cittadini si ribelleranno.